Il grande Mattia Furlani ha ottenuto in queste Olimpiadi di Parigi 2024, pensatevi, il terzo posto, quindi il bronzo. È stato veramente in gamba, meraviglioso e straordinario, bronzo olimpico, Olimpiadi di Parigi nel salto in lungo. Il ragazzo, il 19 anni d'età, tuttavia è stato accolto in maniera festosa all'aeroporto di Fiumicino dove tanti tifosi lo aspettavano e lo hanno accolto a braccia aperte, con grandi applausi, lunghi, forti, elevati e tanti passatori sono uniti, un gruppo dei redi anche ovviamente non sono passati conservati e lo hanno accolto come un eroe vero e proprio. Il ragazzo, insomma, Mattia, è stato veramente all'attesa della situazione, ovviamente lo possiamo considerare come un talento dell'Atletica dell'Azzurri e ha trovato abbracci, baci, applausi, persone che si dovevano fare le foto con lui. Bene, grande Mattia Furlani, il video termina qua, strameritato all'Olimpico, meglio il bronzo olimpico nel salto in lungo, l'Olimpiadi di Parigi. Ciao a tutti.